I Lucani sparsi per il mondo, che portano lustro alla Basilicata, sono come foglie di una grande quercia che affonda le sue radici nella terra d'origine. Così il presidente del Consiglio regionale, Vincenzo Folino, ha illustrato il ruolo dei Lucani nel mondo in occasione dei premi consegnati ai Lucani Insigni nell'ambito del Maratea Film Festival. Durante la premiazione è stata consegnata una onorificenza a Cosimo Fusco, originario di Matera. Fusco ha studiato tra Los Angeles, Roma e Parigi. Ha ricoperto diversi ruoli in serie televisive e film italiani, tedeschi e americani. La sua più recente interpretazione cinematografica si è registrata in Angeli e Demoni, adattamento dell'omonimo romanzo di Dan Brown, ma in precedenza era apparso, tra l'altro, nel film Fuori in 60 secondi, nella serie La Piovera 5, in un episodio di Alias. Una carriera artistica che, spiega l'artista, deve molto alle sue origini che vengono custodite durante i lavori che svolge in giro per il mondo. Ho raccolto dei consensi nel mondo e sicuramente è frutto di questo grande tesoro che mi sono portato sempre dentro, di queste mie radici, che mi hanno consentito di sentirmi sempre e solitamente ancorato ovunque io stesso, quindi anche in posti remoti con tutti i problemi anche più complessi, diciamo, assolutamente sì.